Buongiorno ragazzi, buongiorno e buona domenica. Buona domenica ricca. Ci sono tante cose oggi, non solo la Juve, perché oggi c'è anche da gufare per la Juve, c'è da sperare che i vecchi cuori di Sule, Varenicea e Caio Orghe, che ha recuperato e qualche minuto a disposizione potrà averlo, possano fermare il Bologna e quindi forza Juve e anche forza Frosinone oggi, forza Frosinone, perché se il Bologna dovesse oggi vincere a Frosinone, quindi una gara in trasferta per Tiago Motta, noi andremmo addirittura quarti in classifica dietro al Bologna in attesa di giocare la nostra partita di questa sera, che non è qualcosa di definitivo, ovvio, poi ci sarebbero altre sette giornate, otto con quella della Fiorentina per la Juve, però sicuramente mettersi nella condizione di dover sempre rincorrere non è qualcosa di positivo, anche perché ieri la Roma ha vinto, la Roma ieri ha vinto con un gol di Mancini che nel finale poteva secondo me tranquillamente evitare di sventolare quella bandiera con disegnato un topo a sfondo bianco celeste, brutto gesto, come è da condannare che va veramente contro i principi dello sport che piacciono a me, poi ognuno la pensi come vuole, ma ora la Roma è terribilmente vicino a noi e siamo soltanto a quattro lunghezze dal quinto posto, 59 contro 55. L'Atalanta ne ha due da giocare, una da recuperare con la Fiorentina più quella di oggi e vincendole entrambe arriverebbe virtualmente a meno tre dalla Juventus, quindi addirittura il sesto posto. È una situazione sicuramente non rosa ai fiori, questo è quello che dobbiamo dipingere, io ieri ho visto anche un po' troppo relax, un po' troppo a calma, quasi come se la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, beh, visto abbiamo vinto, quindi adesso tranquilli che la classifica di Serie A, il calendario di Serie A, la situazione della Juve ci impone di pensare al peggio, al peggio, ci impone di pensare che è una brutta situazione, anche perché noi oggi ragazzi, non so se è eccessivo, però io credo che questa sia la partita della vita per la Juventus, la partita della vita, ogni risultato diverso dalla vittoria è un problema, è un problema grossissimo, anche perché noi dobbiamo considerare che con il Bologna e con la Roma dobbiamo ancora giocare il ritorno e lo giocheremo in trasferta, questi due scontri diretti li avremo in trasferta, Bologna è la penultima giornata di campionato che di questo passo potrebbe diventare decisiva per la qualifica Champions, e con la Roma dobbiamo ancora giocarci, quindi occhio. Poi, la Fiorentina non ha niente da chiedere a questo campionato, guardo la classifica di Serie A e dico, beh, una metà classifica anche abbastanza deludente, secondo me, per il valore della Fiorentina e per quello che aveva fatto vedere Vincenzo Italiano, e quindi è meglio che pensi alle Coppe, dato che ha ancora la possibilità di ipotecare delle finali di Coppa, Coppa Italia, Conference League. Però siamo sicuri che snobberanno al 100% l'impegno? Perché la Juventus, nell'immaginario collettivo di Firenze, è il nemico da battere, e quindi se potranno farci un dispetto lo faranno molto molto volentieri. Quindi noi dobbiamo metterci comunque il nostro 100% e forse anche qualcosina di più. Se no, per noi è un bel problema, al di là di quelle che sono le motivazioni loro, l'approccio loro e tutto, che oggi capiremo se il secondo tempo che abbiamo visto contro l'asta in Coppa Italia è stato un primo passo in avanti, oppure se è soltanto frutto della casualità. Perché ribadisco, non bastano 45 minuti in Coppa Italia per cancellare tutto quello che di brutto è stato fatto negli ultimi 40-45 giorni, 50 giorni. Perché a me ieri è sembrato proprio questa roba qui. Ma sì, tranquilli, che no, no, tranquilli. Ragazzi, tranquillo, ha fatto una brutta fine, è morto in un modo che a me non piace e spero che non finisca la Juventus nello stesso modo. Perché sarebbe un bel problema non partecipare alla prossima Champions. Al di là delle valutazioni di Allegri e mi piace, non mi piace, voglio che vada via, voglio che rimanga, bisogna pensare alla Juventus. La Juventus deve andare in Champions League. Se non va in Champions League è un problema, anzi, uso un termine un po' più adatto piuttosto che problema, è un disastro. La Fiorentina è una delle squadre che corre meno in Serie A, la penultima per chilometri percorsi. Poi è una squadra che ama palleggiare e quindi corre magari qualcosina in meno. Ma è anche una di quelle che fa più passaggi sulla tre quarti ed è la terza in Serie A per questa statistica. A noi è una roba che dà fastidio perché non sappiamo mai come accorciare. Locatelli tende ad abbassarsi tanto, non andiamo a schiacciarci e già siamo bassi e passivi se tendiamo anche a schiacciarci ulteriormente perché gli altri ci portano a farlo. Chissà che bella partitona viene fuori. Quindi bisogna stare molto molto attenti. Poi loro sono una squadra in difficoltà, lo dicevamo prima, la classifica non erosea nemmeno per loro. Hanno fatto pochi gol, ne hanno subiti troppi. Questo è un grande limite della Fiorentina perché quando ne fai pochi e ne seguisci tanti non puoi sicuramente puntare a vincere, ma sono una squadra con dei principi di gioco offensivi. Una squadra che vuole pressare tanto, è una squadra che può andare a stressare abbondantemente la nostra linea 3 dietro, che poi sarà una linea 5 però loro con il tridente alle spalle di Belotti, quindi Beltran, Nico Gonzalez, vedremo chi giocherà a sinistra, possono andare a pressare e non poco il nostro terzetto difensivo. Bisogna stare molto attenti a questa situazione e dobbiamo cercare di non schiacciarci perché se iniziamo a schiacciarci già abbiamo un giro palla lentissimo dietro, orizzontale, poco efficace, a blocco basso se andiamo anche ad attirare il loro pressing, e loro il pressing lo fanno molto bene, è una delle loro caratteristiche e peculiarità, ciao, ciao, quindi dobbiamo cercare di essere un po' più coraggiosi e portare un po' più sul baricentro. La Fiorentina è una delle squadre col baricentro più alto, noi dobbiamo cercare di alzarlo perché se no andiamo a metterci in tana e in trappola da soli. Attenzione perché nonostante tutto questo la Fiorentina è una squadra di lottatori, Juventus e Fiorentina sono due squadre che godono nel gioco aereo, si tratta infatti di due delle squadre che hanno segnato più gol di testa in tutto il campionato. E ora facciamo un piccolo gioco, quanti ne ha segnati la Juventus di testa e quanti la Fiorentina? Ebbene no, non siamo i leader di questa classifica perché noi che da calcio d'angolo, la punizione, i cross, una leccornia, siamo sempre che alziamo il pallone e buttiamo in the box, ne abbiamo segnati nove e loro ne hanno segnati addirittura tredici. Sentivo anche ieri in telecronaca della Roma che il gol di Mancini porta la Roma ad avvicinarsi alla Fiorentina a raggiungere la Fiorentina con i gol di testa, questo non ci interessa, comunque la Fiorentina è il riferimento per i gol da gioco aereo. L'abbiamo visto all'andata banalmente, con un italiano che continuava a buttare dentro sti palloni sugli esterni, sti palloni, sti palloni e poi la Juventus invece difendeva nell'area e non è mai riuscita la Fiorentina ad essere efficace. Però il controllo della partita era stato tutto viola con la Juventus che aveva trovato quello squillo con Miretti nei primissimi minuti di gara e poi è riuscito a portarsi a casa la partita. Non siamo la Juve dell'andata che in un modo o nell'altro riesce comunque a non subire gol, siamo una Juventus che il gol lo subisce come? E non lo dico io, lo dico negli ultimi risultati. Non facciamoci influenzare dal risultato dalla Lazio, dal clean sheet, è una cosa sicuramente meravigliosa ma è un caso singolo isolato, non facciamo cherry picking all'interno di un elenco puramente negativo, rimaniamo concentrati sul fatto che stiamo andando male, stiamo andando malissimo, dobbiamo vincere questa partita e dobbiamo giocarcela con il sangue negli occhi perché sennò veniamo travolti anche da una squadra che dal campionato ha poco da chiedersi e non forse questa partita qui nello specifico. Vlaovic, Vlaovic è l'uomo a cui mi aggrappo, è l'uomo che ha la mentalità giusta in questo momento, è l'uomo che cambia la Juventus, è l'uomo che fa fare più tira alla Juventus, più gole e anche più punti alla Juventus, è lui che può fare la differenza nella Juve. Chiesa è tornata al gol e si gioca al futuro dato che è un contratto in scadenza nel 2025, rimane Chiesa alla Juve sì o no agli ultimi 50 giorni per convincere qualora ci fossero dubbi nella testa dei dirigenti bianconeri. È un attacco di ex viola contro la viola in una partita quasi fondamentale per il futuro della Juventus perché andare in Champions e non andare in Champions cambia e anche tanto dal punto di vista economico e di progettazione. Quindi dobbiamo assolutamente raggiungere la Champions League e non dobbiamo pensare che ma sì tanto ragazzi manca 7-8 gare di campionato e quelli dietro spingono e ci credono perché possano fare l'impresa e noi che abbiamo buttato al vento un sacco di punti non possiamo adesso dire eh la classifica dice questo a fine campionato la classifica dice che non siamo una squadra a 20 punti dall'Inter, ve lo dico eh, ve lo dico non lo siamo e ve lo dice uno che nel momento in cui andiamo a 10 punti dall'Inter dice 8-9 punti, sì, questa è la distanza giusta che c'è tra Juventus e Inter, prima era eccessivo, il meno 2 o il più 1, non era roba da Juve effettivamente contro quest'Inter che sul campo fa vedere tanto di più della Juve, 7-8-9 punti può essere la nostra distanza, qui l'abbiamo raddoppiata, più che raddoppiata, non siamo una squadra che deve stare a 20 punti dall'Inter, santo il signore, come non siamo una squadra che deve stare a gufare il Frosinone, sperando che possa battere il Bologna perché sennò il Bologna ci sorpassa, non siamo una squadra che deve gufare la Roma e sperare che la Lazio faccia gol perché sennò la Roma ci ha recuperato 100 punti da quando De Rossi è arrivato in panchina senza esperienza in Serie A, non siamo una squadra che deve dire oddio il recupero dell'Atalanta, speriamo che la Fiorentina ci faccia il regalo perché sennò ci raggiunge pur l'Atalanta, non siamo una squadra che deve cagarsi addosso in mano a 8 giornate alla fine perché arriva la Fiorentina decima in classifica a dire vengo lieti, faccio anche il dispetto, non siamo una squadra questa roba qui, non prendiamoci in giro, non accettiamo queste situazioni perché una volta che accetti queste situazioni è difficile tornare indietro. La probabile formazione mi piace e mi piace tanto e credo che sia giusto giocare con questi, c'è solo un piccolo ma, Scesni, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiokostic, Chiesa Vlaovic. Cosa vi ricorda questa formazione? È esattamente quella che è scesa in campo con la Lazio, eccezione fatta per Scesni perché giocava per l'Incoppa Italia. Quindi questi sono i giocatori titolari della Juventus del Ligri 23-24, stop, questa se mi chiederanno un giorno qual è la formazione titolare della Juventus del Ligri 23-24? Questa, questi 11 che vi ho detto oggi perché sono quelli che hanno giocato di più, quelli che hanno dimostrato più fiducia anche ad Allegri, Allegri ha dimostrato più fiducia a questi calciatori, li sta facendo giocare spesso e volentieri, in tutto l'anno sono quelli presi più in considerazione, questa l'unica cosa che sono anche appunto i giocatori che hanno già giocato in Coppa Italia martedì contro la Lazio, quindi potrebbe essere semplicemente che sono un po' più stanchi rispetto agli altri, quindi oggi davvero i cambi saranno fondamentali. Io penso a Ildiz che avrà necessità di rilevare Chiesa perché Chiesa è un giocatore che fisicamente, e nessuno mi toglierà da questa idea, fisicamente oggi non c'è, fa fatica. C'è Iling Junior su Kostic, c'è Miretti, ha recuperato Alcaraz, ci sono alcuni giocatori che dovesse succedere qualcosa dietro, io mi auguro Rugani piuttosto che Alessandro, la Juventus ha fuori solo Milik, e la Juventus ha una rosa giustissima come lunghezza per la Serie A e basta, e la Coppa Italia, è una rosa qualitativamente che non può essere paragonata con quella della Roma, dell'Atalanta o del Bologna, non ce l'ha. Quindi cerchiamo di rimanere attenti e concentrati sulle nostre cose, perché quella di oggi è una partita fondamentale, non so quante volte l'ho già detto, ma soprattutto se noi pensiamo, vabbè dai, abbiamo vinto e quindi a posto, stasera torniamo a casa con il sedere che ci fa male. Forza Juventus!